Le sfide mi piacciono. Credo che Trapani sia una società importante, abbia voglia di crescere sotto tutti gli aspetti, l'ha dimostrato per quello che hanno fatto per la prima squadra. I risultati parlano chiaro. Una volta stabilizzata la prima squadra, la società ha pensato bene, visto che è considerato il momento del calcio che viviamo abbastanza dolente, quindi c'è necessità di programmare e necessità anche di investire nel settore giovanile, se si vuole dare continuità a un progetto. Hanno individuato in me una persona che poteva dare una mano, poteva portare un contributo a questa società, con tutti quei personaggi e collaboratori che già sono qua e fanno parte di questa società. Tutti insieme, uniti, per raggiungere un unico obiettivo che è quello di migliorare la società, settore giovanile e prima squadra ogni anno sempre di più. So abbastanza, so abbastanza e devo dire che le persone che hanno lavorato per questa società, per questo settore giovanile, per far sì che il settore giovanile raggiungesse dei risultati importanti, è chiaro che è evidente a tutti. Quello che vogliamo fare, ripeto, è fare uno scalino in più, uno scalino in più sotto l'aspetto dell'organizzazione, sotto l'aspetto anche delle affiliazioni per le società di zona, quindi ricreare i rapporti con queste società, dare un contributo a queste società e chiaramente di conseguenza loro un contributo al Trapani. Importante che queste società capiscono che fanno il bene del Trapani, che è giusto che i ragazzi e i giovani di Trapani rimangano e facciano grande la squadra della propria città e chiaramente il Trapani deve dare qualcosa a queste società. Quindi ricreare armonia e sintonia con queste società di zona che ci possono dare tanto come noi possiamo contraccambiare. Credo che sia nata subito una finità tra le due parti, anche proprio perché io vedo l'etica, l'educazione, il rispetto delle regole come base fondamentale per costruire qualcosa specialmente sotto l'aspetto dei giovani, per la crescita non solo calcistica ma anche morale e caratteriale. D'altra parte questa società ha dimostrato negli anni di portare avanti tutte quelle questioni a livello di rispetto delle regole e di fair play e quindi partiamo già avvantaggiati, partiamo con un punto molto importante e fondamentale per far sì che questo Trapani e questi ragazzi crescono nel migliore dei modi. Sono molto amante del Sud, vengo spesso in Puglia, in Sicilia, ho madre sarda, quindi devo dire che a me piace la gente perché è vera, è vera e genuina, si mette a disposizione, però vuole sincerità, vuole rispetto. Com'è giusto che sia e quindi per me diventa tutto semplice perché sono abituato a parlare chiaro e non evitare problemi ma affrontarli se ci sono. Credo che quando c'è chiarezza in un rapporto sia affettivo sia di lavoro le cose vanno lisce senza nessun intoppo. Innanzitutto un giovane deve giocare a calcio per divertirsi e questa è la base di tutto, divertirsi, stare bene insieme e poi la parte calcistica io credo che sia una conseguenza di tutto questo. Se ti crei dei gruppi dove i ragazzi riescono a condividere, riescono a familiarizzare, a creare un ambiente sereno e veramente di divertimento, hanno un apprendimento migliore rispetto a quando trovi nei gruppi dove c'è un po' di distacco tra qualche ragazzo. Grazie. Grazie.